Ho conosciuto un tipo che canta in Teo, mi fa Teo e lei vieni le grasse, poi è abbastanza scemo, possiamo chiamarlo per la trasmissione? Sì, è vero, è stato un incastro perché quella settimana lì era stato convocato e mi hanno detto vorremmo che facesse una nuova trasmissione totalmente folle, ok fuori, ho detto ok, ho detto vabbè io e Tato ce la possiamo anche fare, però servono rinforzi, no? Intorno diciamo che avevamo un gruppo di, ricordate i buoni Mark Powell, Slave, Martino, ne avevamo qualche arruolato giusto, però io quella settimana, serviva il fuoriclasse, e proprio quel mese lì me l'avevano presentato e ho detto ma sai che forse ho l'uomo giusto? Io sono felice perché soprattutto non ho trovato un lavoro, ho trovato degli amici, bravo! E viva la figa!